Viva la mamma, l'ha menzionata quella donna con lo pio E ne canterete anche cinquant'a, e ne così sincera Viva la mamma, il padre non è così bene per terra E ne canterete bene dopo a guerra, e tirate come l'e-e-e-e E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E adesso un pezzo che è uno dei quelli centrali Anche per la nostra figura di imprenditori musicali che vuole sensibilizzare soprattutto voi giovani sulla questione delle malattie trasmesse dalle scime come diceva prima uno dei nostri temi fondamentali aiutami con questo tema perché c'è in te lo studente che ci lavora sì, praticamente abbiamo, all'Università di Salvento abbiamo proposto questo dottorato perché è un problema che vessa la Gran Bretagna le malattie trasmesse dalle scime e si trasmettono per varie vie anche più impensate tipo infilando organi dentro scime e tutte queste malattie si trasmettono e poi spesso si sottovalutano questo danno ora abbiamo preso uno studente e gli abbiamo fatto fare queste cose gli piace tantissimo questo dottorato ma è stato un po' male sì, sono tutte le bolle sulla parte però per la scienza si fa questo e altro ora noi vogliamo anche portare in Italia questa conoscenza direi attenzione non toccate le scime questo forse è il messaggio principale di tutta la stessa ci siamo? pronti? puoi spiegare? lasciamo andare avanti a tenere il tempo per sempre che bello pronti? bambini per la strada con coltelli e pistole fanno le risse o assumo le droghe si uccidano usando coltette e coltelli chiamandosi condomino belli c'è gente che contrae le malattie dalle scimmie si, si, proprio così le malattie dalle scimmie perché succede?